queste sono praticamente le piastrelle che dobbiamo stuccare e questo è lo stuco che abbiamo preparato poco fa praticamente si prende lo stuco e si rasa praticamente con questa spatola che è una spatola di goma apposta per la stucatura delle piastrelle si rasa in modo di coprire tutte le fughe delle piastrelle si rasa bene si schiaccia così in modo di portare tutto a pari alle piastrelle una volta si mette si schiaccia rasando così riempiamo tutte le fughe in modo uniforme quando abbiamo stucato tutto per bene in questo modo ovviamente con questa spatola di goma lasciamo asciugare e poi vanno pulite le fughe tutto lo stucco per rimanere sopra vanno pulite va pulito in modo qui rimane sempre a pari con le piastrelle